beppe grillo vuole bene a matteo renzi si ve lo dimostro eccolo qua vedete questo è il corriere della sera odierno vedete il corriere della sera lunedì 19 agosto 2019 e che c'è scritto cosa c'è scritto qua a titoli cubitali grillo convince i big beh sappiamo chi sono i big i big sono luigi di maio roberto fico alessandro di battista eccetera grillo convince i big e vuole un contratto con i democratici cosa vuol dire i democratici partito democratico e chi è chi è il soggetto più rappresentativo dentro il partito democratico ma matteo renzi per cui beppe grillo vuole bene a matteo renzi e ha ragione c'è mica niente di male a voler bene a matteo renzi ci mancherebbe altro anche io che sono serafino massoni e gli voglio bene a matteo renzi se a matteo renzi gli vuole bene serafino massoni non vedo perché non gli debba voler bene anche e beppe grillo ha ragione beppe grillo vuole 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 un contratto con un contratto con i democratici beh chi è beppe grillo lo sapete tutti è il padre nobile del movimento pentastellato chi è matteo renzi per chi non se lo ricorda lo dico qua brevemente chi è matteo renzi matteo renzi è stato presidente della provincia di fiorenza poi è stato sindaco di fiorenza poi è stato per un paio di volte segretario del pd e poi è stato capo del governo per mille giorni capo del governo per mille giorni ecco matteo renzi è un ottimo boy è per questo che è per questo che 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 beppe grillo vuole un contratto con i democratici matteo renzi rappresenta il partito democratico molto di più di zingaretti molto molto di più e per cui per cui matteo renzi torna in campo per volontà di beppe grillo molto bene peppe grillo va bene così un contratto con i democratici dire democratici vuol dire matteo renzi e chi è stato matteo renzi io ve l'ho detto qua molto brevemente sappiamo tutti chi è beppe grillo sappiamo tutti che matteo renzi e sera fino massoni è questo qua ok bene cari amici a tutti tanti cari saluti da sera fino massoni ok ok ok